Qualcosa si muove, piccoli segnali di apertura dalla prefettura, arriva il via libera ai proprietari dei bagni per rientrare negli stabilimenti balneari e cominciare quei piccoli lavori di manutenzione per mettersi in pari, per poter cominciare al meglio la stagione, una stagione sulla quale ovviamente ci sono ancora grandissimi interrogativi, ma appunto qualcosa si muove. Se noi la vediamo dal punto di vista economico-finanziario, che ripeto non è assolutamente quello principale, quello principale rimane quello della salute e della pubblica incolumità, se lo vediamo però dal punto di vista economico-finanziario vorremmo quantomeno essere aiutati, se non altro anche con quel consolidamento di quell'estensione delle concessioni fino al 2033, che ci permetterebbe comunque di ammortizzare i maggiori costi a cui andremo in conto nel tentativo appunto di dare un servizio turistico alla clientela e a beneficio di tutta la città balneare. Per quanto riguarda il Plexiglas, volevo sorvolare perché è una ipotesi assolutamente irrealizzabile, per una serie di circostanze che sono sotto gli occhi di tutti, dalla pulizia della spiaggia, alle libecciate, piuttosto che al caldo, quindi la liquiderei come una stupidaggine colossale.